Il terribile crollo dello stabile del complesso termale Larita continua a preoccupare tanto, visto che le macerie hanno struito parte dell'alveo che da Casamiccio l'aggiunge sino alla spiaggia posizionata all'ingresso del comune di Lacameno. Il tappo venutosi a creare sul letto dell'alveo, in caso di forti piogge, potrebbe causare una catastrofe naturale proprio nella zona in cui, a valle, oltre ad un centro abitato popolatissimo, insistono l'ospedale a Narizzoli, una centrale elettrica e la scuola media dell'istituto comprensivo Mennella. E mentre le varie istituzioni dello Stato, deputate ad intervenire, nonostante l'allarme di un imminente e catastrofico pericolo lanciato da tecnici ed esperti, continuano a fare un vergognoso scaricabarile su chi deve materialmente rimuovere le macerie, con le nostre telecamere abbiamo documentato che non è solo la montagna di calcinacci e detriti veniti giù col crollo dello storico stabilimento termale ad ostruire l'alveo della Rita, ma a pochi passi da qui, ad occludere in parte il letto su cui con grande violenza scorre l'acqua piovana, ci sono grossi massi e terreno franato dalle altissime pareti laterali che nel tempo non sono state mai messe in sicurezza. E a questo punto ci chiediamo com'è la situazione a scendere a valle? L'alveo è ostruito da altri crolli o è completamente libero da terreno massi e detriti? In questi giorni di maltempo, chi hanno visto il verificarsi di smottamenti un po' ovunque sull'isola d'Ischia? Questo e gli altri alve isolani, ed in modo particolare quelli di Casamicciola, sono stati controllati metro dopo metro o no? Perché se solo nel breve tratto visibile del letto dell'alveo della Rita abbiamo notato al suo interno la presenza di grossi massi e terreno, lo stesso potrebbe essere in altri punti anche dei vari alvei disseminati sull'isola. E allora i rappresentanti istituzionali preposti, anziché giocare a fare l'odioso scarica a barile su chi e come deve intervenire alla Rita, oltre a fare presto ad eliminare le macerie dello stabilimento termale crollato, controllino che tutti gli alvei dell'isola d'Ischia siano completamente liberi da detriti, massi e terreno. E questo per evitare e prevenire nuove tragedie. Basta disastri ambientali, basta tragedie, basta morti. Si intervenga e lo si faccia subito.